Giorni di attesa per i tifosi del Brindisi dopo l'annuncio da parte del Presidente Umberto Vangone della riunione dell'Assemblea dei Soci in programma nella giornata di sabato e che dovrebbe affrontare anche il tema della ricapitalizzazione societaria. Un argomento sicuramente importante che non guarda solo alla gestione economica di questo campionato ma anche alle prospettive future del sodalizio biancazzurro. Non è infatti escluso ma rimaniamo ovviamente nelle ipotesi che ci possa essere una vera e propria rivoluzione all'interno della società con la possibilità di un cambio di assetto quasi radicale con una presenza solo marginale di qualcuno degli attuali soci. Come dicevamo ovviamente però solo delle ipotesi e solo dopo la riunione e l'Assemblea dei Soci si potrà avere un quadro più chiaro che possa guardare non solo al presente ma anche al futuro. I tifosi comunque si attendono novità importanti al termine di questa settimana in attesa di capire come il Brindisi potrà affrontare anche la prossima stagione oltre a terminare nel migliore dei modi questo campionato. Per quanto riguarda il calcio giocato ha ripreso gli allenamenti. Mister Salvatore Ciullo ha chiamato a preparare nel migliore dei modi la delicata sfida di domenica pomeriggio contro il Casarano. Si attende solo l'ufficialità ma anche in questo caso il fischio d'inizio dovrebbe essere posticipato alle ore 15 presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Grazie a tutti.